Presidente Gianfranco Viesti, come al solito è un agosto di lavoro per i vertici della Fiera del Levante in vista della prossima edizione della Fiera del Levante di settembre. Che edizione sarà? Quali anticipazioni può darci? Ma sarà un'edizione ponte, nel senso che la campionaria è un'istituzione gloriosa, importante da mantenere, però anche molto datata, nel senso che nasce quando c'era bisogno di andare in un posto specifico per vedere degli oggetti che non si trovano normalmente. Quindi questa edizione è un ponte tra quelle del passato e quella dell'anno prossimo che sarà più focalizzata su alcuni settori merceologici. Quali saranno questi settori? Lo decideremo insieme nel corso dell'autunno, perché la Fiera è importante per Bari e quindi non è una decisione da prendere a cuor leggero. Nel frattempo una novità c'è già, i lavoratori che presteranno la loro opera durante la campionaria sono stati scelti con un metodo diverso, un sorteggio. Quando si terrà? Il sorteggio si effettua il giorno 10 di agosto, la mattina, naturalmente in saluta pubblica, quindi aperto alla stampa, a chi vuole venire. Usiamo, essendo moltissime domande, non facciamo i bussolotti, ma usiamo un sistema tecnologicamente un po' più avanzato, con una software irlandese che genera dei numeri casuali, a ogni numero corrisponde un nome, si vedrà il nome e il numero, sorteggiamo naturalmente anche delle riserve. Presidente, non è più un mistero che Oscar Farinetti, inventore del famoso marchio di produzione e commercializzazione enogastronomica Italy, voglia aprire un suo spazio al sud, a Bari, nella Fiera del Levante. Che tipo di lavoro state svolgendo? A che punto è il vostro lavoro? E' andato molto avanti, nel senso che abbiamo messo tutto alla luce del sole, innanzitutto, nel senso che gli spazi della Fiera, come sappiamo, non sono utilizzabili in maniera privatistica, ma sono utilizzabili solo in risposta a questa manifestazione di interessi che noi abbiamo fatto, il mondo da mettere tutti i privati sullo stesso piano. Chi è interessato a venire a localizzarsi in Fiera ce lo dica. Italy ce l'ha detto e dunque ci ha fatto un'offerta di localizzazione in Fiera di un importante spazio, molto interessante, legato al buon cibo, alla buona qualità dei nostri prodotti. Io lo trovo molto interessante, quindi adesso dobbiamo fare un bando per quegli spazi a cui concorderà Italy, ritengo, anzi certamente, per verificare se non ci siano degli operatori concorrenti, diciamo, dello stesso standard qualitativo. Dobbiamo farlo presto perché la Fiera deve caratterizzarsi per una certa efficienza nella risposta ai privati, cerca i privati e poi gli deve rispondere velocemente. Naturalmente il problema su cui ci stiamo esercitando in queste settimane estive è il prezzo, perché noi dobbiamo fare un prezzo ragionevole per il privato, ma il più alto possibile perché quelli sono spazi pubblici.